Tutto pronto, partiti cavalli della seconda corsa di quest'oggi. Parte un po' in controtempo Frili ma si ricongiunge con il resto del gruppo. Stessa cosa per Winter Sensation che però aveva pescato uno steccato largo. Allora il più veloce è Honor Day che poi si adegua a Mini Tony, superato di slancio anche da Simply Pride che adesso è il nuovo battistrada nei confronti di Kunquat, terza posizione per Winter Sensation. Ha fatto un volo dalla partenza lenta fino a portarsi vicino alla testa. In quarta posizione con la giubba bianca e rossa troviamo il favorito Twice Around che ha al suo esterno Olympionic. Poi Frili che ha trovato posizione nel gruppo all'interno del quale gravita appunto Mini Tony. Dietro a questi troviamo Killer Coffee, poi a chiude il gruppo Barbaricina che precede dopo di me e anche Mr. Ragona. Si procede così quando i cavalli vanno ad affrontare la prima parte della curva, posizioni che si sono assestate. In vantaggio troviamo Simply Pride nei confronti di Kunquat, Mini Tony che si avvicina per corsia interna. In quarta invece c'è il favorito Twice Around che gravita in terza corsia. Poi Winter Sensation, Honor Day, Olympionic, Frili, Killer Coffee, Barbaricina, dopo di me e Mr. Ragona. E a chiude il gruppo troviamo il debuttante Fargo. Siamo in addirittura d'arrivo, gli 800 fino a casa con Twice Around che forza la mano rispetto a Simply Pride che reagisce al primo attacco. Honor Day è in terza corsia e si presenta vicino a Twice Around. In quarta corsia c'è Winter Sensation, poi Olympionic temporeggia. Frili che si fa spazio all'esterno di tutti, Barbaricina che lo spazio invece deve ricavarselo. All'interno c'è anche Mini Tony, Mr. Ragona che ha lo stesso problema dall'interno. Quando siamo a 400 dal traguardo però, Twice Around è in vantaggio nei confronti di Olympionic che dall'esterno ci prova. Prova anche a effettuare la sua progressione Frili dall'esterno e all'interno Honor Day. Quando siamo a 200 dal traguardo, Twice Around è ancora davanti e ha debellato il primo attacco di Olympionic che comunque ci prova nelle battute conclusive. Ma Twice Around ha tutto sotto controllo. E vince la sua Maiden al secondo posto, appunto, Olympionic. Al terzo invece, Mr. Ragona che è stato autore di un ottimo recupero dall'interno. Dunque per Twice Around, buona la sesta prestazione in carriera che gli vale appunto la vittoria. Con l'ultima prestazione un po' sottotono, con alibi, come ci aveva detto Stefano Botti. Ampiamente giustificato dunque, tore sulla sinsella, al duino Stefano Botti al training. Colori del Giglio Sardo per questo figlio di Desert Friends che era favorito, quota intorno al 2 in discesa rispetto all'apertura di questa mattina. Lieve discesa. Secondo posto per Olympionic con il quale appunto aveva un conto in sospeso. E al terzo per corsie interne. Mr. Ragona quindi 12-10-9. L'ordine d'arrivo ufficioso, numerico probabile della seconda. L'ordine d'arrivo ufficioso. L'ordine d'arrivo ufficioso.